All'Olimpico c'è qualcosa che non va! All'Olimpico c'è qualcosa che non va! Luciana Battipaglia dopo aver fatto un incubo dopo aver fatto un incubo si ritrova alle 11.30 del mattino fuori allo stadio olimpico Ah Luciana ma com'è sta sensazione? Bellissima! Ah Luciana cosa ne peggio di non usare le mie bue? Mi spoglio stasera! Ah Luciana stasera provvediamo!